Il prossimo 26 settembre ci sarà un test di protezione civile. In Abruzzo il Dipartimento Nazionale sperimenterà It Alert, un sistema di allarme pubblico di emergenza per informare la popolazione che si trova in area a rischio. L'obiettivo è comunicare alla popolazione che si trova in un'emergenza i rischi attraverso messaggi unidirezionali sui cellulari. Nel giorno del test a tutti i cellulari, indipendentemente dalla connessione internet, verrà inviata una notifica che l'utente deve dichiarare di aver letto. Spiega tutto il direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Mauro Casinghini. Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale sta testando un sistema di allerta pubblico che prevede che sui nostri dispositivi mobili arrivi un messaggio che ci allerta su eventi in corso o eventi catastrofali possibili. Questo è un sistema molto innovativo che prevede appunto l'invio di un messaggio che nel momento in cui arriverà sui nostri dispositivi dovrà essere da noi visualizzato necessariamente. Ovviamente non comporta alcuna interferenza con la nostra privacy ed è molto importante perché ovviamente ci avvisa nel momento in cui una determinata zona è interessata da eventi di questo tipo. È un po' come il segnale televisivo, arriva senza innescarsi nella nostra sim ma nel dispositivo direttamente. Quindi non ha nessun tipo di interfaccia con i dati personali e arriverà ovviamente nella zona interessata. Quindi se arrivasse la nostra sim arriverebbe anche se noi fossimo in un'altra regione completamente differente rispetto a quella dell'allarme. Ecco, prima dell'Abruzzo il test verrà fatto nelle regioni limitrofe. Che cosa potrebbe succedere? Problemi di interferenze, di arrivo comunque in messaggi lì dove si confina? Beh sì, noi stiamo avvisando la popolazione proprio per questo motivo perché il 12 di settembre verrà fatto nelle Marche quindi la zona nord dell'Abruzzo potrebbe essere estrema nord dell'Abruzzo proprio quella confinante potrebbe essere interessata così come il 19 di settembre il test del Molise, la parte sud dell'Abruzzo e il 21 di settembre la parte ovest dell'Abruzzo con il test del Lazio. Poi il 26 di settembre toccherà a tutti noi rispondere a questo test anche compilando un questionario che il Dipartimento Nazionale chiederà appunto di compilare che è molto importante perché in questo caso tutti noi diventiamo ancora una volta protezione civile.